Anche nel trasporto pubblico a Padova sembra che la situazione sia caotica e penalizzante per l'utenza a causa della gestione inadeguata di Bus Italia. Secondo il consigliere regionale Jonathan Montanariello, vicepresidente della Commissione Trasporti, in tutto il Veneto i servizi di trasporto necessitano di un intervento da parte della Regione, che ora in primis ha il compito di intervenire per garantire la regolarità del servizio a Padova, ma deve anche aprire un tavolo istituzionale per ridisegnare il sistema nel trasporto pubblico locale Veneto che sta dimostrando troppe falle e inefficienze. Si associa Montanariello in queste dichiarazioni o Stanella. I due consiglieri affermano che né nella vicenda Bus Italia né in quella CTV sono accettabili i tentativi fatti dalle aziende per scaricare le responsabilità dei disservizi sulle spalle dei lavoratori. È evidente e continuano che si stanno cercando di attuare politiche gestionali tali da operare tagli senza confronto diretto con le organizzazioni sindacali. Per questo i due consiglieri richiedono l'intervento della Regione per tutelare i cittadini e i lavoratori. La richiesta è di finanziare maggiormente il trasporto pubblico e di accelerare la nascita di un terzo soggetto che permetta a comuni e province di gestire meglio i fondi statali e regionali. La richiesta è di finanziare maggiormente il trasporto pubblico e dell'intervento pubblico.